Catta il conto alla rovescia, Vicenza decolla verso la finale per la capitale italiana della cultura 2024 e si racconta in questo spot che trasmette il senso dell'invenzione palladiana. Il sindaco Francesco Rucco incontra il grande architetto mettendo in scena in pochi secondi lo spirito creativo che unisce la Vicenza del rinascimento a quella del futuro. Andrea ho una grande notizia, Vicenza è finalista al bando per capitale italiana della cultura 2024. Fantastico, merito delle belle invenzioni vicentine, quella l'ho inventata nel 1500. Anche le nostre usi antartiche le hanno inventate a Vicenza. Caro Francesco, te lo dicevo io, la cultura è una bella invenzione. La cultura è una bella invenzione e in fondo è questo il vero significato della corsa per diventare capitale della cultura 2024. Al di là di come andrà a finire, sarà una vittoria perché Vicenza in questi mesi è tornata a guardare a domani, ha ritrovato la sua identità, ha ottenuto visibilità, ha ricominciato a raccontarsi, a far parlare di sé. Io credo che il percorso che si è avviato e soprattutto il percorso di condivisione con la città, la rete di collaborazioni, la voglia dei cittadini di essere più propositivi e partecipativi non si spegnerà e sarà anche il nostro compito di amministratori cercare di tenerla viva indipendentemente dall'esito del bando.